Ok, inizia l'altro livello di PlayStation Star Battle Royale modalità online. Perchè fa i suoi commenti? Pronto? Combatti! No! Non ho schivato il colpo! No, no, no! Prendi! Creatore di Gaia! Livello 2! Livello 2! Livello 1! Livello 2! Oh cacchio! Livello 1! Non ci credo! Peso! Raccontalo alla nonna dai! Livello 1! Livello 3! Attenzione! Dannazione! Vabbè! Vai! Killalo! Vittoria! Ok! Peccato che mi dispiace un po' per l'avversario che ha avuto il giocatore che la gava! Finalmente una sfida! Finalmente una sfida! Seleziona il tuo personaggio! Seleziona il tuo personaggio! è in corso! Speriamo in bene! Speriamo in bene! Visto che non l'ultima partita con il cattivo non ho proprio fatto una bella partita! non ho proprio! Un radek! Un radek! Livello 1! Un Kratos! Pronto? Combatti! OUCH! 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 Che bello! Tue spammoni! Se mi afficcino... Ciao, splendore! Ci penso io! Vai, stai! Ehm... Si vede proprio che è a livello 1, perchè proprio questo qua non sa usare il personaggio! No! Questa volta ho fatto io il fail! Ehm... Ehm... Scordatelo! Tu non hai finito con nessuno! Ora è davvero successo! Ogni tanto il contrario... Sly che stai facendo? Sly che stai facendo? No! Sto facendo la solta figura dieeeeeeeeee! Ok no! Non l'ho più fatta! ok grande cool e anche e grande anche tesla indietro ne stanno capitando agli atti fortunati cioè sono ho vinto queste due partite perché sono stato più bravo delle partite in genere cioè sono si sono fatto più bravo delle partite in genere perché mi sono capitati agli atti molto bravi a giocare soprattutto quest'ultima parte che ho trovato gli agli atti molto bravi a giocare perché senza quelli avrei perso comunque non so che personaggio scegliere ottima scelta ok col malvagio ancora kratos in tre partite l'ho sempre trovato ecco il buono 443 mi sa che qui le prenderò tante pronto combatti ok 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 scordatelo 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 Grandissimo! 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 ほどo ana Perdi Dannazione Perdi Ti faccio a pezzi Molto bene Grandissimo Grandissimo call Va al call Che stai aspettando La bestia è arrivata Perfetto E meno male che non le abbiamo affrontate in due E meno male che non le abbiamo affrontate in due Questa parte Questo duello mi ha fatto Il combattimento mi ha fatto crescere di livello molto E meno male che non le abbiamo affrontate in due Ok Ho ricevuto un grandissimo Seleziona il tuo personaggio Molto bene Che personaggio Che personaggio scelgo Anzio ma va bene Si a trevelle di playstation Allo stars battle roll Allo Allo